Benvenuti su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in passato, la terza maglia della Juventus in versione TfAN, la maglia più comoda dedicata ai tifosi. La terza maglia da calcio Adidas Juventus 2022-23 introduce un design sgargiante in rosa e blu, dominato da un motivo grafico astratto, all over e caratterizzato da loghi sia bianco Adidas e Juventus che blu Jeep. La colorazione ufficiale della terza maglia della Juventus 2022-23 è collegiate royal, acid red, white. Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le maniche completano il look insieme alle tre strisce bianche poste sulle spalle. Lanciata il 5 settembre 2022, la terza maglia Juventus 22-23 si completa con pantaloncini e calzettoni blu o bianchi. La maglia è molto bella, nella mia classifica questa prende 4 stelle, fatta molto bene. Io l'avevo già vista, trovate qui in alto la recensione, l'avevo ordinata a dire la verità in versione player, mi è arrivata di nuovo in versione FAN, quindi riproverò. Qui in alto vedete il costo che include anche le spese di spedizione. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che, peraltro, è arrivata anche molto velocemente. Questa è arrivata in 27 giorni. Ora vi lascio alla parte finale, nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia XL della versione FAN. Premetto che normalmente io indosso una taglia inferiore, un po' più attillata di questa.